4.344, tante le persone scomparse in Puglia fino al 31 dicembre scorso, un vero e proprio esercito fantasma, volti e storie dai contorni ancora incerti, partiti per chissà dove e in alcuni casi senza fare ritorno. In circa 1.600 ogni mese spariscono dei radar in tutta Italia, a dirlo i numeri della 24esima relazione del commissario straordinario del governo, 100 unità in più nello scorso anno soltanto nella nostra regione fanno i conti dal Viminale per l'82% minorenni, in larghissima parte di origine straniera, ma tra loro ci sono anche 503 italiani. Il report allarga lo spettro fino a mezzo secolo fa, in 46 anni, oltre 16.000 le persone delle quali è stata denunciata la scomparsa su tutto il territorio regionale, 6.500 dei quali non italiani, più della metà con meno di 18 anni. E la data di partenza del monitoraggio non è neppure casuale, dal momento che prende il via da quando in Italia è stata istituita una banca dati specifica dal 1974. Uno scomparso su quattro non è stato più ritrovato, 59 cadaveri mai identificati, cifre che fanno salire la Puglia al sesto posto su scala nazionale, con il 6,4% del totale delle denunce. Nel periodo dello screening la provincia capoluogo a mantenere i numeri più rilevanti, mentre quella con il dato più basso e la BAT, con soltanto due casi dai quali si sono perse le tracce, persone. Non solo un fatto di pallottoliere si intende, se si serrano i ranghi relativamente agli ultimi 13 anni, l'area metropolitana di Bari supera le 4.000 unità segnalate di 746 di loro. Non si è saputo più nulla. Grazie a tutti.